Ed eccoci di nuovo qui ragazzi con una nuova top 5, continuiamo sempre con i miei tipi preferiti Il tipo che oggi vi voglio portare di rediletto è il tipo elettro Quindi ecco qua la top 5 dei miei 5 pokemon preferiti di tipo elettro Alla posizione numero 5 troviamo Luxray Perché comunque mi piace veramente come stile Dato che inoltre diamante e verde e platino sono state le mie seconde generazioni preferite E quindi mi è piaciuto subito avere la possibilità di utilizzare questo Luxray all'inizio Vabbè ovviamente con le varie evoluzioni Ma comunque è sempre un pokemon valido Che secondo me vale la pena avere in squadra Almeno per iniziare perché è nuovo in quei giochi Alla posizione numero 4 troviamo la versione di terza generazione di Luxray Ovviamente è Manetrike Anche lui posso dire sempre lo stesso riguardo a come ho detto di Luxray E comunque conviene averlo in squadra Anche se si trova un pochettino avanti È sempre un valido pokemon di tipo elettro Anche perché se ne trovano pochi se non sbaglio nella terza generazione Potrei dire una cazzata correggetemi se sbaglio Ci mancherebbe ancora Quindi mi piace Alla terza posizione troviamo un pokemon che purtroppo è stato violentato Viole, 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 violentato Tanto, tanto, tanto Viene sempre utilizzato solamente per esplosione Lo vedete dalle immagini È Electrode Questa povera pokeball girata Mi dispiace veramente tanto Che venga utilizzato solo per quello E, boh, secondo me invece è potentissimo Bisogna solamente tirar fuori il suo vero potenziale Quindi terza posizione meritata Anche perché ne ho due più forti avanti Alla posizione numero due invece troviamo anche questa volta un leggendario barra semi leggendario Anche se la categoria semi leggendaria non esiste più Questo pokemon è Zapdos Anche se ha il secondo tipo volante Comunque è prevalentemente tipo elettro Mi piace da matti perché ho amato il film pokemon L'ho amato Veramente il primo film pokemon E, boh, è stato amore a prima vista con quel film Devo riuscire a ritrovarlo Devo comprarmi forse una collezione di tutti i film pokemon Per rivedermeli tutti E quindi, boh, secondo me ragazzi Si mette alla seconda posizione solamente per quello Anche perché è forte in metagame In metagame era veramente forte E alla posizione numero uno Troviamo inaspettatamente Rotom Rotom perché mi piace Perché è anche un bellissimo tipo spettro Si merita la prima posizione Perché è anche bello andarlo a cercare Lì nell'antico Chateau Mi piace, non so perché mi piace Mi piace lui e tutte le sue altre forme Quindi, boh, per me si merita tranquillamente Il primo posto E sono felice Di poterlo dire Quindi, boh, niente Primo posto per Rotom Voi ragazzi Chi preferite di pokemon di tipo elettro Scrivetelo qui sotto nei commenti Ovviamente ci rivediamo alla prossima top 5 Vi dico subito che la prossima top 5 Riguarderà I pokemon di tipo ghiaccio Quindi ragazzi Noi ci rivediamo A un prossimo video Un saluto a Teo E ciao ciao Ciao